Unero 4x4 è un'azienda che nasce dieci anni fa, è un'azienda strutturata per creare delle emozioni agli utenti appassionati del marchio Land Rover che in questi dieci anni è cresciuta molto sotto il profilo delle prestazioni, dei mezzi, delle preparazioni come il mercato richiesto e l'anno scorso ci è venuta l'idea di abbinare un motore nettamente più performante a un veicolo storico come il Defender quindi unire la qualità moderna con il mondo un po' rude e agricolo del Defender. L'FPT è stata una scelta per noi ovvia perché conoscevamo molto bene le qualità del motore, dell'F1C, di loro progettazione e realizzazione e volevamo assolutamente cercare di dotare di un motore così performante e versatile i nostri Land Rover che hanno proprio bisogno di una costola così importante come il motore dell'FPT, l'F1C appunto. Le caratteristiche che ci hanno sicuramente coinvinto sono quelle di coppia e di regime come pure dell'affidabilità. I nostri mezzi sono mezzi che vanno in tutto il mondo a qualunque latitudine del mondo e quindi dobbiamo cercare di fornire al cliente un mezzo che non abbia problemi mai, da nessuna parte. Noi di professione facciamo i starti delle auto sostanzialmente, cerchiamo di ritagliare il vestito su misura del cliente. L'idea è adesso in un momento dove i Defender non ci saranno più nuovi, abbiamo pensato di fare un qualcosa di nuovo col Defender e quindi abbiamo pensato a una motorizzazione che sicuramente sia molto più performante sotto tutti i punti di vista dalla coppia, alla potenza, ai consumi, alle emissioni, in maniera tale da andare incontro alle esigenze moderne del mercato. E di poter fare con FPT, che è sicuramente un partner molto qualificato, un progetto che veda la creazione di nuovi veicoli fatti apposta per il fuoristrada. Nel nostro caso è creare proprio il vestito su misura del suo cliente e secondo me questa potrebbe essere una sfida molto interessante che FPT, grazie alla trasversalità anche dei propri prodotti, ha deciso di intraprendere. Grazie a tutti.